Siamo con Simona Racchetto dell'ufficio comunicazione e fundraising di Infinito, planetario di Torino. L'occasione è la presentazione del 17 e 18 di novembre con Moon the Beyond, la chiusura dei festeggiamenti dell'anniversario del cinquantesimo sbarco sulla Luna, però è anche l'occasione per lanciare un progetto importantissimo che si chiama Segui la Luna. È un progetto a cui noi dello staff di Infinito e non solo teniamo particolarmente Segui la Luna è un'iniziativa che è già partita quest'anno per riportare la Luna ai torinesi, chiunque si fossero. Una delle nostre tappe ci ha portato a Regina Margherita, all'ospedale pediatrico qua di Torino, e ci ha dato un là in più. Noi raccontiamo la Luna quotidianamente fuori dal museo e vogliamo impegnarci a raccontarla ai bambini che non possono usufruire di questa cosa perché magari sono chiusi dentro un ospedale o hanno possibilità limitate di muoversi. Quindi nasce l'idea di estendere Segui la Luna e di aprire una campagna di raccolta fondi che diamo un aiuto sia alle aziende del territorio ma anche ai singoli. Questo si sposa bene con l'arrivo di Charles Duke, chi meglio di lui può parlarci di Luna, qui a Torino. Abbiamo quindi aperto questa raccolta fondi che si chiama Segui la Luna e si trova sulla rete del dono. Ci sono diverse possibilità per donare. Una è partecipare alla cena di gala che vedrà ospite l'astronauta Duke che ha pochissimi posti, siamo quasi al tutto esaurito. E poi in realtà la campagna andrà fino al 31 marzo, per adesso poi vedremo se riusciremo a estenderla. Quindi facendo una donazione semplice oppure dandoci da correre. Ci sono anche tre di noi, tre personal fundraiser, che hanno messo anche le gambe, oltre che il lavoro di tutti i giorni. Quindi facendo una donazione ogni 10 euro che ci regalate noi corriamo un chilometro. Siete buoni, donate tanto, ma pensate anche alle nostre gambe. Avremo anche una mezza maratona domenica mattina prima dell'arrivo di Duke per farci trovare belli pimpanti al Parco del Valentino. Quindi se volete venire a sostenere Segui la Luna anche dal vivo ci trovate lì. Grazie a tutti.